Ciao a tutti, anche oggi guardiamo una sequenza di esercizi di mobilità e di allungamento. Partiamo come al solito muovendo il collo, in avanti e all'indietro. Facciamo delle flessioni laterali. E ci aiutiamo con una mano, esercitando una leggera pressione, tenendo la spalla opposta, bassa. Cambio. E facciamo le nostre circonduzioni, sempre molto lente. Due giri da un lato. E due giri dall'altro. Ok, fatto il secondo giro, ci allunghiamo verso l'alto. E facciamo una flessione verso destra. E poi una flessione verso sinistra. Fibaricchiamo le gambe. Mani verso l'alto. E facciamo una flessione a schiera dritta in avanti. Teniamo questa posizione qualche istante. Torniamo su. Sempre braccia verso l'alto dritte. Torsione verso destra. E andiamo giù con la schiera dritta. Torniamo su. E andiamo verso sinistra. Torniamo su. E torniamo avanti. Molto bene. Ora. Sempre gambe di maricate. Braccia aperte. Schiena dritta. Andiamo a toccare il piede. Con il braccio opposto. E cambio. Piede opposto. Cambio. Cambio. Schiena dritta. Cambio. E torno. Di nuovo braccia verso l'alto. Schiena dritta. Vado giù. E appoggio le due mani al centro. Schiena dritta. Stacco il braccio e il ruoto. Torno al centro. E cambio. Torno giù. Stacco l'alto braccio. Butto fuori l'aria quando salgo. Cambio. Ultimo giro. E stop. Di nuovo. Braccia in alto. Vado verso destra. Questa volta afferro la caviglia. Come sempre, tutte queste posizioni le tengo 30-40 secondi. tumorski. Cambio. Move. E come sempre, tutte le due mani al centro. Barca verso l'alto. Un e Σαν dottor. Abbiamo visto un giro il cinense di due mani al centro. Bene, alla fine di tutto, per riposarci, posizioni della foglia, appozzo la fronte e rilasso per qualche istante.